Buongiorno amici di Ante, buongiorno agli amici della Sambasket, che giustamente vengono un po' a parlare di quelle che sono le cose successe in questi ultimi tempi. Domenica questa sconfitta interna dopo che la Samb, giustamente c'era anche, penso un bel po' di persone, perché il biglietto poteva contribuire anche all'ingresso per vedere questa partita, che state facendo un bel campionato, state lì per raggiungere le off, però quello che c'è stato anche il titolo regionale giovanile, ecco perché abbiamo stamane un ospite illustre. Allora, buongiorno a Daniele Aniello, Alessandro Ringarolo, che ormai penso è il FAC-Totto, e Michele Correggio, buongiorno Michele, buongiorno. Allora, partiamo da Alessandro o partiamo dal coach? Dal coach, allora facci buona disamina di come è andato il campionato, tra alti e bassi, però insomma non era un campionato semplice, anche perché ce lo decisti la scorsa estate. No, non era semplice, sicuramente il livello medio è stato, ed è tuttora perché è ancora in corso, insomma, per me una partita ancora manca e non è facile parlare e dare una definizione di quello che è successo. Però sicuramente in generale è un campionato dove il livello medio è molto alto, forse anche più alto di quello che ci aspettavamo, rispetto, parlando degli avversari. Noi credo che del lavoro che abbiamo fatto siamo soddisfatti. E' chiaro che adesso la ciliegina sulla torta sarebbe anche toglierci la soddisfazione, qualche addetto ai lavori, ne parlavamo ieri con i ragazzi, all'inizio dell'anno ci dava un pochettino per spacciati, toglierci la soddisfazione di arrivare ai play-off sarebbe veramente... Cioè anche se arrivarci alla fine è proprio poterci arrivare. Sì, sicuramente sì, sicuramente. Senti, tornando sulla gara di domenica scorsa, diciamo, gara che ci sta questa sconfitta, squadra più forte di voi, oppure c'è stato qualcosa di cui ha rimpianti? Il mio rimpianto è non aver sfruttato, come dicevi te, il fatto di avere finalmente un palaspeca a veramente partecipe. Credo, io non ricordo, avendo seguito negli ultimi anni un pubblico così numeroso. E quindi l'impianto è quello, cioè al di là dei valori tecnici, dove ovviamente partivamo leggermente sfavoriti, però mi sarebbe piaciuto giocarmela un pochettino con un pochettino più di carattere. Poi è chiaro che questo aspetto psicologico può avere anche dei risvolti negativi a volte. Vabbè, anche perché in tutti gli sport ogni gara ha una storia a sé. Comunque, vabbè, l'importante, dicevi tu, che domenica andate a Pesaro per giocarvi questa ultima chance. Però volevo anche parlare, abbiamo anche Miguel con Alessandro, di questo titolo, anche perché tu mi dicesti, sarebbe pomeriggio, posso portare più persone. Però purtroppo pomeriggio non abbiamo la disponibilità di questa sala. Però ecco, diciamo, almeno questa soddisfazione di aver vinto un titolo regionale, che poi il discorso giovanile è quello che serve anche per impostare il futuro. Sì, sicuramente per il nostro progetto le giovanili sono la cosa fondamentale per dare un futuro alla prima squadra. Tant'è che è vero che in questo campionato di C-Gold le squadre che sono nelle prime posizioni sono quelle che hanno dei giovani che danno un grosso contributo in campo. Aver vinto un campionato al terzo anno di gestione del settore giovanile è una cosa molto bella. Era da tantissimi anni che a San Benedetto non si vinceva un titolo regionale di basket, per cui siamo molto soddisfatti di questo. Ecco, ci sono già ragazzi che potrebbero già dal prossimo, prossima stagione, dare il loro contributo alla prima squadra? Già quest'anno ci sono diversi ragazzi che si allenano con la prima squadra e anche stanno in campo qualche minuto con la prima squadra. Ovviamente nei prossimi anni speriamo siano sempre di più ragazzi di San Benedetto che possano far parte del roster della prima squadra. Ecco, ti chiedo questo Alessandro, visto che tu gestisci un po', diciamo tutto, anche dietro le quinte, avete molti ragazzi del territorio che, perché il basket di solito è solo chi ha una certa statura, chi ha una predisposizione diversa, un po' come per la palla a volo, se no il calcio è predominante. Allora, noi quest'anno abbiamo per la prima volta superato il numero dei cento ragazzi, che è un numero simbolico, ma anche poco, molto importante. Facciamo tutti i campionati, facciamo anche due under 13 perché i ragazzi erano particolarmente numerosi, abbiamo dovuto fare due squadre. Fare due squadre per la stessa annata è una cosa che fanno pochissime realtà, solo i grandi club, per cui ci dà grande soddisfazione. È ovvio che, oltre ad avere i numeri, poi piano piano bisogna cercare di aumentare il livello e questo ci si arriva solo con il lavoro in palestra e con il grosso impegno da parte di tutti i ragazzi. Cioè, è importante che sia una società dietro che ti dia anche la possibilità di poterlo fare, questo è fondamentale. Una battuta con Michele, innanzitutto complimenti per questo titolo. Grazie, grazie. Da quanto tempo è che lui sta qui da noi? Settembre. Settembre. Quindi, anche lui è stato anche promosso per la prima squadra, quindi già persona abbastanza di cui Daniele... Che ruolo hai? Scusa? Che ruolo, in che posizione ti spieghi? Guarda e playmaker, ma più guarda. E giustamente che sarà confermato oppure a chi lo chiediamo? Alessandro? A lui. Rimani qui a San Benedetto? No. Non lo sai? No, sì, è una possibilità, ma non è certo. Senti, e per domenica a Pesaro che prevedi? Un gioco... E' un gioco difficile, sicuramente, ma è un gioco, in cui credo che se darei tutto ciò che abbiamo, credo che possiamo avere un'avvento. E' un'avvento che è un'avvento che è un'avvento che è un'avvento che si può cambiare tanto per ogni e ogni uno di noi. E' un'avvento che credo che se dobbiamo dare il nostro tutto, è una buona possibilità per noi di vincere. Daniele, sì, che ha detto? Partita abbordabile oppure? No, ha detto all'inizio che la partita sicuramente è una partita molto difficile, però che dopo tutto questo percorso così lungo, arrivare fino a qui, ci aspettiamo che i ragazzi e tutti, ovviamente anche lo staff e la società, è il momento di fare un passettino in più. Ti chiedo un'altra cosa, visto che domenica vi giocate il campionato a Pesaro, nell'arco della stagione avete avuto anche un seguito di amici, simpatizzanti anche fuori casa, oppure avete solo al Palasport e basta? Allora, partendo dal Palasport, secondo me c'è stato un incremento netto. Io l'anno scorso, pur ovviamente non lavorando qui, mi è capitato di vedere qualche partita e secondo me, penso che parliamo di numeri raddoppiati in casa. In trasferta è chiaro che è difficile, perché comunque facciamo un campionato che è interregionale, quindi spesso andiamo fuori. La cosa positiva è che avendo avuto giocatori o allenatori che magari hanno lavorato già in altre società e avendo in precedenza fatto scelte su persone valide, è capitato più di una volta di avere tifosi che non venivano da San Benedetto, ma magari da altri paesi a supportarci. Questa è stata, secondo me, una cosa bella che dà un segno e un valore esatto a quello che vogliamo fare. Anche perché io negli anni 90 mi ricordo la Sun Basket del grande presidente Paolo Magni, con Enzo Romano, con tanti personaggi che ognuno si rivede al Sammetto. Forse è stato quello il periodo in cui il basket ha raggiunto l'apice, io parlo per una realtà dove il calcio è sempre stato predominato, però questi piccoli passi che fate di volta in volta sicuramente vi potrebbero riportare, mi dicevi tu Daniele, a rivedere un palasport non diciamo pieno ma quasi pieno. Già questo è un dato significativo. Sì, e poi piccoli passi sicuramente, però c'è da dire che questa nuova società sostanzialmente è al terzo anno di attività vera. Poi come diceva l'Alessandro, fate tutte le categorie? Tutte le categorie giovanili, quindi vuol dire under 13, 14 e così via, fino ad arrivare all'under 20. Ci sono vari progetti con il settore mini basket, quindi sotto dall'under 12 in poi. Ci sono responsabilità strategicamente divise. Secondo me la strada intraprese è quella giusta. È chiaro che adesso bisogna essere bravi a farlo sempre, quel passettino di cui parlavi tu avanti, senza rischiare necessariamente di voler fare il passo più lungo della gamba, che è l'errore che fanno molte società. Anche te puoi cadere e dopo non ti rialzi, ci vuole tanto tempo, vabbè come succede un po' in tutti gli sport. A questo punto Daniele faccio l'in bocca al lupo a te come coach, a Alessandro che giustamente è quello che ci tiene sempre informato sulle sorti del basket, e anche a Michele. In bocca al lupo e eventualmente facciamo una panoramica a fine campionato, anche quando finiranno i tornei giovanili. E così facciamo il bilancio della stagione e preventiviamo quello che sarà il futuro. Molto volentieri. Ok? Grazie a voi.